Musica Come l'avete portata negli stiori? Non so niente, sono solo un contabile Non prendere del culo, stronzo Vuoi finire come tuo amico qui? Su, guardalo, guardalo bene Ti crede più forte di lui? Quando finiamo con te, ti mettiamo in una di queste macchine e poi ti trediamo Scaletta è finalmente arrivato tra noi Dopo averlo visto, rivisto, stravisto in milioni di fiere, eventi e così via Abbiamo finalmente avuto sotto mano un codice DC tra l'altro per poter provare, per poter giocare comodamente in casa nostra a Mafia 2 Naturalmente stiamo parlando, un nuovo titolo di 2K Games Stra-teso sequel di un titolo uscito tantissimi anni fa ma che tutti ricordano bene Quattro capitoli da giocare per cominciare a provare Una grafica assolutamente di primissimo livello Seguite nel dettaglio ogni aspetto del gioco nella nostra video anteprima Di Mafia 2 probabilmente sappiamo già vita, morte e miracoli Il sequel è nell'aria da un numero impressionante di anni Se si considera che il primo Mafia uscì nel lontano 2002 A quel tempo lo sviluppatore rispondeva al nome di Illusion Softworks E nel corso degli anni, legame con il publisher originale, Take Two Divenne talmente forte da dar luce a una vera e propria fusione Attraverso la creazione di 2K Check Nonostante si tratti di un sequel L'unico legame con il predecessore riguarda l'atmosfera che si respira nel gioco E un certo modo di raccontare una storia a tinte agrodolci Vito Scaletta è un protagonista nuovo di Zecca Italiano nelle sue origini familiari, ma nato e cresciuto in America Si troverà a tornare nella sua Empire Bay in seguito a una ferita di guerra Ovviamente nei suoi panni ci ritroveremo invischiati in un crescendo di azioni criminali Per cercare di guadagnarci un ambito posto nell'ambiente malavitoso della città Mafia 2 ricorda pesantemente quel capolavoro del free roaming che è Grand Theft Auto 4 Una città in Empire Bay liberamente esplorabile a piedi o con qualsiasi veicolo Un'abitazione che si evolverà e modificherà nel corso del gioco Negozi di vestiti e armi dove cambiare il proprio abbigliamento e rifornirsi di munizioni E naturalmente tutta una serie di location da visitare nel corso di una campagna single player La cui durata è ancora avvolta nel mistero E la cui suddivisione è basata su un sistema a capitoli Tuttavia Mafia 2, pur appartenendo al genere dei free roaming È estremamente più lineare e diretto rispetto al capolavoro di Rockstar Ci saranno sempre missioni principali e secondarie denominate lavori Ma queste ultime saranno semplicemente delle piccole deviazioni dal canovaccio principale Non aspettatevi insomma una mappa della città che tenderà a riempirsi di lettere e indicare i vari personaggi con cui interagire Solitamente ci sarà un singolo punto attivo da raggiungere per avviare la missione principale E al massimo un lavoro secondario se scoperto durante un giro libero in città In Mafia 2 è possibile combattere a mani nude oppure sfruttando ovviamente le armi da fuoco Che potranno essere portate due per volta e raccolte dai corpi dei nemici Facendo a cazzotti avremo a disposizione un colpo debole, uno potente e la posizione di parata che fungerà in automatico anche da schivata Una volta equipaggiata un'arma i controlli passano al classico sistema fuoco e zoom con i due pulsanti del mouse Ed è possibile sfruttare le coperture con la pressione del tasto control Complice però il sistema automatico di ripristino della vita Appena non si viene colpiti per pochi secondi i combattimenti tendono a essere piuttosto facili Anche al massimo dei tre livelli di difficoltà e anche quando i nemici su schermo sono molti Commettendo dei piccoli reati come ad esempio l'eccesso di velocità o un incidente con una vettura dei tutori dell'ordine Si guadagna una stella e si viene inseguiti dalla volante che ha assistito al reato Una volta interrotta la linea visiva con i poliziotti La piccola barra blu presente sull'hood in basso a destra inizia a diminuire gradualmente E quando si svuota completamente si torna a essere uomini liberi Completamente diverso è il discorso se si commettono infrazioni di grado maggiore Che portano il giocatore a guadagnare dalle 2 alle 5 stelle In questo caso la polizia sarà estremamente più aggressiva E se riuscirà ad avvicinarsi abbastanza al veicolo quest'ultimo diventerà ricercato Quando si è in questa situazione non basterà più svuotare la barra della polizia per non essere più inseguiti In qualsiasi momento infatti passando troppo vicino a una volante o a un poliziotto a piedi La barra tornerà a riempirsi riattivando eventualmente l'inseguimento Sarà necessario liberarsi del veicolo Eventualmente rubandone un altro senza farsi beccare Oppure entrare in fretta e furia in un'officina Queste particolari strutture permetteranno di riverniciare la vettura O cambiare la targa per eliminare l'etichetta di criminali E allo stesso tempo di fare piccole modifiche alla macchina Anche di natura estetica per renderla più performante La vicinanza con GTA IV, già descritta prima, è presente anche in un altro aspetto purtroppo negativo In Mafia 2 non ci sono checkpoint interne alle missioni E anche se è assai difficile morire, questo può comunque avvenire soprattutto nelle missioni stealth In cui non bisogna farsi vedere dagli avversari E il risultato è l'avvio ex novo della missione fallita Con conseguente ripetizione di quanto era già stato fatto in precedenza Sezioni di guida comprese Dove Mafia 2 ci ha storditi completamente è stato dal punto di vista tecnico Sul computer di test il titolo 2K Games gira senza alcuna incertezza Con una risoluzione di 1900x1200 pixel e tutti i settaggi su alto La fisica del gioco si è dimostrata di primissimo livello Sia nell'interazione con gli ambienti sia nella guida dei veicoli In quest'ultimo caso si possono immediatamente sentire con mano le differenze nelle due modalità Che regolano il modello di guida Simulativa o normale Con la prima che determina una risposta in frenata, accelerazione e tenuta della strada Decisamente realistica e all'apparenza in linea con le performance ridotte delle auto dell'epoca Rimanendo in argomento vetture si è dimostrato assolutamente ottimo il sistema che gestisce i danni E che ha conseguenze non solo di ordine estetico ma anche funzionale Siamo rimasti stupiti anche dal particellare che regola la gestione dei fumi Che special chiuso si comportano in modo realistico Riempiendo gli ambienti a partire dal soffitto per saturare man mano l'area Anche i modelli dei personaggi sono particolarmente curati, dettagliati e realistici Con una espressività molto credibile complice anche l'ottimo doppiaggio Già interamente in italiano anche in questa versione di prova Ok, io e Joe andiamo all'appartamento Tu prendi la mitragliatrice da Henry a Kingston È tutto pagato, degli solo che ti mando io Proprio a voler essere pignoli abbiamo notato una presenza un po' eccessiva di fenomeni di pop-up delle vetture Che tendono letteralmente ad apparire nello scenario un po' troppo a distanza ravvicinata La prova ci ha lasciati con un giudizio estremamente positivo nei confronti di Mafia 2 Ora rimane soltanto da aspettare il 27 agosto per mettere le mani sul gioco finale Te sta scappando Andiamo Quello fronzo l'ho ucciso Grazie 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 Grazie